Un minuto di silenzio per le vittime di Parigi a poco più di due settimane dall'attentato che ha causato 130 vittime e poi via ad affrontare la scadenza più importante per il Consiglio regionale, l'approvazione della variazione di bilancio 2015 che il Parlamento regionale deve approvare entro il 30 novembre. Puntiamo a continuare a garantire i diritti fondamentali ai cittadini pugliesi, quindi abbiamo stanziato 60 milioni di euro sulla sanità, 46 milioni e mezzo di euro sul cofinanziamento dei fondi comunitari 2014-2020 utili per dare impulso all'economia pugliese, 32 milioni di euro sui trasporti, questo per far sì che la Puglia possa continuare ad essere una regione che dà servizio ai propri cittadini e che rilancia l'impulso dell'economia. Sulla carta un semplice assestamento di bilancio, 200 milioni di euro per rifinanziare sanità, fondi europei e trasporto pubblico locale, ma proprio il capitolo sulla salute per Michele Emiliano che nei giorni scorsi ha annunciato una robusta cura dimagrante per le strutture pugliesi per evitare un piano di rientro imposto da Roma, potrebbe diventare un passaggio delicato in Consiglio con tutti i gruppi di opposizione pronti a contestare il governatore direttamente in aula. È assurdo chiedere di chiudere gli ospedali mentre ne stiamo costruendo di nuovi e anche di grandi, io penso all'ospedale tra Monopoli e Fasano. Ecco, queste problematiche della direttiva europea, dal blocco del turnover, erano noti da tempo, abbiamo perso tempo e adesso il Presidente non ha trovato altra strada che quella più facile, che è quella appunto di chiudere gli ospedali. Cosa che però è forse la più facile per salvare le casse, ma assolutamente non tutela il servizio della salute pubblica. Noi invece vogliamo tutelare la salute e la sicurezza dei nostri cittadini, per questo abbiamo chiesto di lasciare la delega alla sanità perché evidentemente non è in grado di occuparsene e di occuparsi invece di come impiegare meglio queste poche risorse a disposizione del bilancio regionale nella direzione dell'assistenza domiciliare integrata e delle case della salute. Grazie a tutti.